Una donna di 56 anni, nella mattinata di mercoledì 4 settembre, poco prima di mezzogiorno e venti, ha effettuato una brutta caduta con la bicicletta mentre stava scendendo dalla strada comunale per la diga del Teleccia a Locana. Sul posto sono prontamente intervenuti la croce bianca del Canavese e l'elicottero del 118. La donna, dopo essere stata stabilizzata, è stata elitrasportata all'ospedale di Torino in codice giallo con politrauma. Secondo la prima ricostruzione, la caduta potrebbe essere stata causata da un tubo in polietileno dell'acquedotto posizionato in modo precario, ma certamente sono in corso.